buongiorno ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale che lo può fare solo in un modo in una maniera lo si può fare solamente gratis cliccando iscriviti ed attivando la campanellina perché è molto ma molto importante il settimana prossima sarò in una trasferta di lavoro mi terrà impegnato per due tre giorni farò molti meno video ma cercherò di essere presente il più possibile qualche ora fa sempre la verità che è stata la verità panorama il giornale di belpietro chiamatelo un po come volete voi a vostro piacimento oltre ad essere stato il primo ad annunciare che era saltato tutto con picco a proposito picco 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 comunque la verità panorama giornale di belpietro oltre ad essere i primi che annunciavano diciamo il nulla di fatto proprio con picco trattativa con acquirente riconducibile a pif e anche loro fanno il nome di al saoud la verità vi giro l'articolo e di qualche ora fa ma nonostante questo sole ventiquattro ore ieri sera ci mette il carico da novanta dicendo testuali parole ultimora a fondo arabo interessato ad acquisire il club un miliardo e tre e vediamo se sono miliardi e tre mi sembrano tanti comunque skyda il passaggio di proprietà imminente eccolo qua il fondo californiano avrebbe effettivamente avrebbe già per le mani un potenziale compratore pronto a prendere le reti del club di viale della liberazione in tempi relativamente rapidi giusto cosa vuol dire tempi rapidi non lo so questo lo dovete chiedere a loro l'interrestrebbe dunque per molto poco di proprietà di ottri prima del passaggio definitivo ad un altro azionista quindi cosa se vince se vince ormai più di un giornale parla già di un compratore pronto quindi non eravamo pazzi noi no quando dicevamo che ottri aveva il compratore io vorrei ricordare che dopo diciamo quella roba vomitevole abbiamo visto ieri mi riferisco al comunicato di zang per lui lui fa quel comunicato a tutti i tifosi dell'inter anestetizzati solo quelli che guardano la palla che entra dentro ai suoi seguaci che stanno scemando ora dopo ora fortunatamente vi volevo dire una cosa ragazzi voi eravate tanto attaccati a questo zang che lo dipingevate come il mago della finanza pensavate che lui fosse uno con un piano con una strategia si è rivelato uno sprovveduto un improvvisato non si arriva l'ultimo giorno a fare quelle lavori battaglie legali te devi fare le battaglie navali zang visto non puoi venire nemmeno in italia non le battaglie legali le battaglie legali di che ho proposto mille alternative c'è solo un'alternativa quella che dovevi pagare e che non hai soldi te ne devi andare basta e i tuoi non trascinare i tifosi dell'inter nei tuoi problemi personali vattene una volta pranzi vattene sei già andato basta per quelli che ora stanno cercando visto che non ne hanno allora innanzitutto io alla alla violenza gente ho sentito mi hanno mandato degli schisciotta gente che ci vuole sparare addirittura che vogliono prendere il mitra ne hanno mamma io non rispondo a queste violenze qui però chiudete i canali a chi parla di mitra di pistole youtube dovrebbe chiudere i canali ora questa live è stata segnalata da tantissime persone molto probabilmente non gli faranno nulla ma ho sentito mi hanno mandato e se rimane zanghi c'è gente va al giro con il mitra ma ma anche meno chiamami te se mai sai problemi ce l'hai il mio numero io non devo chiamare nessuno perché io non ho offeso nessuno io non voglio sparare a nessuno siete voi che ora siccome siete alla frutta la canna del gas non siete mai stati redibili a maggior ragione ora volete far passare occhi per l'orco cattivo innanzitutto vi volevo ricordare che qualora l'inter passasse occhi come sembra ma come accadrà la coppa è solamente del vostro presidente se passiamo dottri e lui e ti ha ridotto ad essere pignorato da un fondo non sono stato io attenzione e ma ottri sai ora innanzitutto che ha già detto che conferma tutto il management e ha già detto che terrà la squadra competitiva anche perché quelle di ottri che ti hanno dimostrato di non essere amici di zanghi e di non essere una onlus come la dipingevate voi non hanno interesse a a a far scemare un valore di un loro asset perché diventa un loro asset l'inter la tengono come competitiva e la rivendono il prima possibile ma ora voi parlate male di ottri è il vostro presidente non il mio è il vostro presidente che si è fatto fottere l'inter da ottri non sono stato io quindi se se ora criticate ottri e la situazione ottri dovete ritirare il vostro presidente vi ha buttato nelle mani di uno squalo perché effe perché ve l'ha sempre detto che loro bevono il sangue non è una onlus quante volte ve l'ho detto che non era una onlus quindi prendetevela con zang non con ottri ottri fa il suo lavoro ti tiene competitivo non ti non fa scemare il valore dell'asset e ti rivende e a quanto pare è già il terzo la terza testata economico finanziaria che parla di compratore già pronto allora questi esonerati questi scialtroni degli esonerati forse non le dicevano le cazzate e dici chi era tra noi e voi diceva le cazzate voi e non te la devi prendere te la con zang che ti ha fatto fare questa fine ma non è una 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 fine questo è un risorgimento questo vuol dire risorgere perché ottrici rivende al fondo saudita di cui parlano anche stamattina se il vostro presidente avesse voluto bene all'inter come dite voi come sperate voi ai 4 20 a 24 ore da una festa non va a fare quelle dichiarazioni da disperato perché quello lì che non nomino nemmeno vuole bene solo a se stessi un conto è affezionarsi ad una cosa e un conto è voler bene ad una cosa lui si è affezionato quello non vuole bene a nessuno perché se avesse voluto bene all'intero avrebbe fatto memorati si sarebbe tolto dai coglioni tre anni fa non avrebbe perseverato debito paga prestito octriti scatola cinese su un'altra controllante quella era un pubblico bilancio perché basta basta l'italia gli ha permesso anche troppo io ora ce l'ho io ce l'ho il sistema italiano la figici la lega voi a questo personaggio che è venuto dalla cina gli avete permesso di fare anche troppe cose non andavano fatte perché voi avete permesso ad un ad un imprenditore cinese ho presunto tale di fare finanza di fare impresa senza soldi di sorreggersi solo sui debiti e voi sistema calcio italiano un personaggio del genere poi si è rivelato per quello era lo dovevate buttare fuori molto prima ci siamo capiti e i problemi suoi a noi non ci riguardano se non può venire in italia a me non me ne frega una sega tanto ormai se ne è andato se ne deve andare basta perché sta sporcando tutto quello che di bello poi alla fine ha anche fatto lui perché lui ha dei meriti triste finale un tetro e triste finale di questo personaggio che viveva solo di improvvisazione di debiti non aveva nessuna strategia e te l'ha dimostrato impazzendo gli ultimi giorni ciao inter grazie